Sì, sì, ma anche io col cellulare l'ho fatta, però la rete va e viene, quindi io prima ho provato a chiamarti ma non sono riuscita, ho rimasto prima che mi hai potuto chiamare. E per dirgli che tu sei dalla nonna o il nonna non c'è stata con niente. E allora dirgli che è tutto a posto. Mio Dio! L'hai ripresa? Sì! Non capisco, ma l'hai venuto a posto, ma l'hai venuto a dormire, va bene, ma le chiavi? A chiudete e te l'hai lasciato a posto questo mone? Non è un altro punto adesso, vediamo perché l'impera si può tardi, ci facciamo anche un po'. Mamma mia! Madonna! Sì, infatti io sono ricordata questo. Mio Dio! Non ti preoccupate, è una cosa che volete, questa che vi va del video da un'inizio, va bene? Ciao! Eh vabbè, secondo me, io sono un po' di puttare sul minacchiero. Mio Dio! Non ti preoccupato per te che ti fa accadere, che ti spinge? Io per vulcano! Io per vulcano! Ah, ciò ciò ciò! Ciò ciò, ciò ciò! Ciò ciò! Cioè ciò! Ciò ciò ciò! Sì, penso che deve andare bene.